No al dialogo sulla riforma del Senato, no ad alleanze, alle comunali correremo da soli. Roberto Fico ribadisce così le posizioni critiche del Movimento 5 Stelle, al margine di una visita al Presidio di Polizia a Cavallo del Bosco di Capodimonte. Il Presidente della Commissione di Vigilanza Rai ha sottolineato l'importanza della presenza di questa istituzione all'interno di uno dei pochi polmoni verdi della città, come elemento di legalità e deterrente contro la criminalità, a tutela della pubblica fruizione e del turismo. Il Movimento 5 Stelle si batte contro l'ipotesi di chiusura del Presidio, a seguito del programma del Governo di riorganizzazione di alcuni organi della Polizia dello Stato, con alcune iniziative messe in campo, tra cui una lettera al Ministro Alfano e al Capo della Polizia Pansa. In vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, Fico conferma che il Movimento correrà da solo, nessuna alleanza alle porte. Dalla prossima settimana, il Via ha riunioni per la redazione del programma elettorale, basato su dieci punti cardine. Ieri il Ministro Boschi, molto divertente, alla festa di scelta civica che non esiste neanche più, insieme a Verdini che parlavano di futuro. Come si fa a parlare con Verdini di futuro? Non lo so. La nostra posizione è critica, voteremo senza dubbio no, ma soprattutto che possibilità c'è di dialogare con queste persone che con la sofferenza generalizzata che il nostro Paese vive, vanno al ritorno estivo a parlare di riforma del Senato, legge sull'intercettazione e finanziamento pubblico ai partiti. Sono degli irresponsabili, questa è la verità. Noi la settimana scorsa abbiamo fatto una prima riunione generale, molto grande, a cui hanno partecipato più di 200 persone e la settimana prossima inizieremo a scrivere il programma, quindi elaboreremo dieci punti fondamentali per la città sulla scorta anche del programma che già avevamo elaborato e del lavoro che facciamo ogni giorno.